campagna state in campagna con fra che fai sapugliene di puma d'ora usandica e si fa vedere un cortile l'angolo siamo in campagna un saluto da qua stiamo camminando su un terreno misto creta due cretini misto creta che bello scusate i capelli sono appiattito zona paolina sentite il vento le paleoliche guardate che bello paesaggi bucolici allora allora questo che cos'è secondo te questa è una pianta ma che cosa era pianta di piante una melanzana bianca melanzana bianca di montaguto allora quando ci porta a mangiare una parmigiana fatta poi faremo una bella parmigiana faremo un pranzo e ve lo faremo vedere questo è l'ortolano c'è la mia propensione a peperoni che peperoni è questo a corno d'or no dillo bene a corno d'or a corno d'or ma qualità si chiamano proprio così non ho capito questo non so quelle con il fuoco no no stanno dalla c'è la fa vedere con il fuoco questo sono zucco zucco genovese uno due tre questo è il risparmio scusate amici genovesi sto scherzando non ve la prendete ovviamente si scherza questo è una pianta che non c'è una tena a mandare questo è che questo è un peperone neri mai visto no? infatti la c'è scritto un peperone nero come se sono più buone? non lo so la prima volta che l'ho metto peperoni neri neri poi ci facciamo un assaggio e questo che sono? cavolfiori cavolfiori viola capito? che cazzè? no 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 questo è lo sfondo di windows xp bellissimo sentite che pace che tranquillità ho visto un albero di mele spiego che ha kind? un albero di mele un mele rosse bene mele piccoline però no quelle grande papaveri questo l'ho già tagliato tu non sei il mio vero Papa vero Poi, aspetta, vieni qua, andiamo a vedere, facciamo un saluto, vieni qua, non vuole salutare, salutiamo Luana, aspetta, vieni qua, salutiamo Luana, ogni volta vedete le video, dice che siamo stupida e ride, Luana di Milano, Luana a fine di Givert, questi qua sono fagiolini, rampicando, la giochiamo da tre quattro anni fa, oh, sono in una pistacchia, oh, sono in una pistacchia, lui, sono in una pistacchia, lui, questo quando, quando c'è? Questi qua, ora abbiamo la cibo, c'è già metto il canno, che sono rampicando, fagiolini non si fanno le canne, sono in una pistacchia, da solo, le canne che c'è là, vedete, c'è le sue canne, questo è San Peico, anguria proprio, ah, e ma quando è? a luglio, a luglio, a luglio, a luglio faremo una bella cocomerata, anguria, eh, anguriata, regalo, peperoni, friarielli, madonna, guardate che bella, c'è una panoramica di insieme, guardate che bella, tutto fatto da questo, tutto da te? tutto da me, questi sono l'uno, quelli là a pane, sì, quelli d'acqua diciamo, no, a pane, quelli arancione, e quelli là pure, capite, questi sono fagiolini, nani, 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 eh, come a noi, nani, sono bassi, sono bassi, sono piccoli, e questo sono cicoria, qui gatta cicoria, questo cicoria è di passato, dal Catalunya, quella che fa le talle, quelle belle potecione, bene, passiamo a quello, passati, e poi puoi offrire, e poi mi caccia, questo è cipolla? aspetta, aspetta che mangia l'ampicata pure io, perché l'elano piccante, questo è il cipolla, durata, questa cipolla, questa c'è l'ho del fuoco, perché a me la cipolla non mi piace, ma è gusto, è gusto personale, non odiate le cipolle, perché ve l'ho detto io, chi se ne frega a cui fine qua cipolle dorate cipolle rosse sedano quasi stai un po che ti sedano ti sedano se non sta bene lo sedano questo secondo te non ho giambiato niente non ho giambiato niente sono leggero che cos'è questa è una cosa che ho giambiato che è? che si vede rucola rucola non ti vado a fregare da nadie ma lo so che è la rucola non voglio fare gli soggetti intelligenti zucchine gialle e questa è la pia ah questa è quella con le fiammelle questo si chiama habanero white bullet pallottola peperoncino piccante bene facciamo un saluto qua c'è l'acqua c'è l'acqua c'è l'acqua c'è l'acqua c'è l'acqua fai acqua da tutte le parti se no come fai l'acqua c'è l'acqua giusto? si salutiamo tutti gli amici dalla campagna di frank e dal coltello di frank leggermente sporco e beh è giusto questo dopo ci facciamo il ci spalmiamo la pia la fila delf insomma il pan ciao